Ciao ragazzi, benvenuti nel canale di Marco Drums oggi 4 dicembre 2020, sta nevicando tantissimo da me e voglio fare un video tecnico per farvi vedere il funzionamento reale che funziona, l'hard disk esterno della vostra Playstation 4, staccato il cavetto USB messo dentro con console spenta, con la vostra PS5 spenta, dietro nella porta USB, eccolo qua impostazioni, memoria archiviazione questa è i 7 giga disponibili sul mio SSD della Playstation 5 cliccate così vi faccio vedere i giochi installati un attimo di pazienza, credo di venire il giorno al disco eccoli qua, Assassin's Creed, Bar, Snack Tata Tata, Code 4 e tutti quanti adesso vi faccio vedere gli hard disk della Playstation l'hard disk esterno eccolo qua questi sono i giochi installati sull'hard disk esterno che erano i giochi che avevo sulla Playstation 4 e adesso me li ritrovo senza far nulla, senza dover formattare l'hard disk senza dover far niente, fa la ricostruzione mi sembra di ricordare e basta e sono tutti i giochi che ho, che posso giocare sulla Playstation 5 dal mio hard disk esterno eccolo qua, 4 tera 3 disponibili faccio vedere anche un pezzettino del gioco eccolo qua questo è il gioco è il gioco della Playstation 4 che ho installato sull'hard disk esterno e lo sto usando sulla Playstation 5 ecco fatto ragazzi ecco fatto vi do un saluto al prossimo video tecnico e a tutti i miei video live che sto facendo benvenuti sul canale Marco Drums iscrivetevi e guardate i miei video Facebook, Youtube e Twitch ciao ragazzi